Si può definire la parte sociale del Giro d'Italia. Lei è Paola Gianotti, ciclista torinese. Sta percorrendo con un giorno di anticipo le tappe dei professionisti sulle strade del Giro per sensibilizzare sulla giusta convivenza tra ciclisti e automobilisti. Questo Giro di Paola che anticipa di un giorno tutte le tappe dei professionisti è fatto proprio per questa causa, per sensibilizzare le persone che noi siamo gli utenti deboli della strada e non può esistere questa strage silenziosa dove muore un ciclista ogni 35 ore sulle nostre bellissime strade italiane. Scortata dal gruppo ciclistico Wild Boar, ieri pomeriggio ha fatto tappa a San Giovanni Rotondo e prima di arrivare nella piazza del Comune per ricevere l'affettuosa accoglienza della città ha voluto sostare qualche minuto in preghiera davanti alle spoglie di Padre Pio. Sicuramente essere in questo luogo, in questo momento, con quello che sto facendo è un aggiungere emozione all'emozione, quindi è veramente bello essere qui oggi chiudere la tappa qui a San Giovanni Rotondo che poi è la parte più al sud dell'Italia poi si ritorna verso nord e essere qua veramente è un'esplosione di gioia perché penso di essere ancora più vicino al cielo oggi che nelle altre tappe. Nel 2012 è stata costretta a chiudere la sua azienda decidendo così di fare il Giro del Mondo in bicicletta e battere il Guinness dei Primati come la donna più veloce ad aver circunnavigato il globo. La bicicletta rappresenta veramente un lungo viaggio che si può fare ma anche un'importante sfida sportiva quindi il Giro del Mondo in bicicletta per me è stato un cambio di vita ma anche un superare i propri limiti e autodimostrarmi che nella vita tutto si può realizzare.